Nonostante la pressione di Polonia e paesi baltici, nella lista in fase di elaborazione delle personalità bielorusse che verranno colpite dalle sanzioni europee, non dovrebbe figurare Aleksandr Lukashenko per lasciare ancora spazio alla diplomazia. Intanto il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, ha accolto l'esule Svetlana Tikhanovskaya per consegnarle le chiavi di un quartier generale dell'opposizione a Varsavia. La candidata alle presidenziali, sconfitta da Lukashenko, che ha ottenuto il suo sesto mandato, ha detto che a questo punto non è più possibile tornare indietro, dopo il carcere e le torture inflitti ai manifestanti antigovernativi, scesi in piazza pacificamente fra il 9 e l'11 agosto. Una repressione del dissenso che continua implacabile. Solo martedì sono stati arrestati 121 dimostranti. L'avvocato attivista Maxim Znak è stato prelevato dalla sede del Consiglio di coordinamento dell'opposizione da uomini a viso coperto. Ha strappato il suo passaporto al confine con l'Ucraina, dove era stata condotta per un espatrio forzato. Maria Kolesnikova, l'unica rimasta in Bielorussia, del trittico tutto al femminile guidato da Tikhanovskaya durante la corsa alle presidenziali, si trova ora in carcere a Minsk, secondo il padre della donna. E Svetlana Alexievich ha denunciato una tentata irruzione di sconosciuti nel suo appartamento nella capitale. La Nobel per la letteratura nel 2015 è ora l'unica libera dei membri del Consiglio dell'opposizione che era nato per dialogare con il regime.